Ciao Tommaso, benvenuto al Symposium Podcast Ciao ragazzi Grazie Allora Tommaso, per chi non ti conoscesse, anche se ormai sei ovunque sui social raccontaci un po' di te, della tua storia e di cosa ti occupi Ok, allora io sono un ragazzo, Cassio 2006 sono un crypto trader, un crypto investitore da circa tre anni e da circa due anni e mezzo circa insegno anche altre persone a fare lo stesso e per il resto nulla, sono un classico ragazzo che va in quarta superiore In quarta superiore, e come ti stai trovando a gestire tutto questo lavoro e contemporaneamente andare a scuola? Allora, è abbastanza complessa come cosa, devo dirti la verità cioè, io ho avuto la fortuna di partire in quarantena e quindi di mettere un po' le basi in un periodo in cui avevo tanto tempo libero e quindi adesso ho tantissimi collaboratori che mi aiutano però fattibile, ok? Fattibile, ma bisogna avere dei ritmi molto alti se no non ce la fai E i tuoi genitori sono contenti che vai a scuola, lavori, tutto questo insieme? Allora sì, diciamo che loro sono secondo me più preoccupati che mi stressi troppo perché ho dei ritmi veramente alti però sì, sono contenti, sono molto contenti, sì, devo dire di sì Cosa ti ha, diciamo, fatto partire in un percorso? Perché solitamente un ragazzo a 14 anni tutto pensa a meno che il business, i soldi o fare carriera quindi qual è stata la cosa che ti ha fatto switchare? Ma allora, secondo me, io dico sempre di aver avuto una visione anticipata perché secondo me poi la visione arriva a tutti, ok? Dove uno scende con i piedi per terra e si rende conto che purtroppo se vuoi di più nella vita devi emergere in qualche modo e non puoi seguire i binari tradizionali perché poi sappiamo quali sono i risultati e quindi secondo me io ho avuto uno switch che era stato dato semplicemente da delle pubblicità perché io non avevo molto da fare i primi anni sul computer, 14 anni in quarantena eravamo chiusi 24 ore sul letto e cosa facevo? Tra una PlayStation, tra una partita FIFA, Fortnite ho iniziato a guardare queste pubblicità e ho detto ah, sai che c'è? Forse vorrei provare quindi è partito più come ok proviamo però sapevo già nella mia testa che se l'avessi preso seriamente mi avrebbe portato a fare una strada molto molto importante con dei risultati molto importanti quindi avevo già chiaro qual era il mio obiettivo cioè all'inizio è partito un po' tutto con sogno la Lamborghini sogno il jet privato che è un po' quello che c'è nella testa dei ragazzini di 14 anni e proviamo adesso chiaramente si è evoluto in altro però ecco, questo In questa fase da chi ti sei ispirato per imparare o comunque sia studiare quello che c'era da sapere? No, allora io ho iniziato su YouTube banalmente dico sempre su YouTube si trova tutto soltanto che a un certo punto ti rendi conto che è confusionario quindi lì diciamo suscita un po' la curiosità però nel momento in cui vuoi fare una cosa fatta bene devi affidarti a qualcuno questo lo dico sempre c'è tanto schifo in giro, lo sappiamo però devi prendere qualcuno che paghi ovviamente perché nessuno ti fa le cose fatte gratis e io quindi ho cercato di accumulare nella prima fase tanto capitale o perlomeno quello che sono riuscito a fare ho iniziato a fare qualche sito il sito di qualche ristorante essendo in quarantena era una bella esigenza ho fatto i primi 3000 euro e ho iniziato a fare dei percorsi di mentor privata per l'e-commerce quindi quella è stata un po' la via cioè torni sempre indietro alla fine dei conti sei partito dall'e-commerce quindi sono partito dall'e-commerce esatto ok, drop si, dropshipping classico come è andato? allora ho avuto i primi fallimenti poi mi è andato bene un colpo in mentor privato mi sono fatto seguire da questa persona e mi è andato bene un colpo e ho iniziato a fare delle cifre veramente importanti vendevo dei reggisini sportivi per sessantenni fa ridere questa cosa fa molto ridere in Germania tra l'altro nemmeno in Italia e tra l'altro c'è un aneddoto che vi racconto subito così partiamo subito col botto e un giorno io non avevo lo stock a casa perché comunque dropshipping si faceva senza stock però mi ero fatto arrivare dei prodotti per dire ok faccio il video per la creative per fare la pubblicità mia mamma diciamo che mio papà era più al corrente di questa cosa mia mamma sapeva che lo facevo però non sapeva qual era l'oggetto e lei entra in camera questa volta una volta e toglie un libro non so cosa va tolto cascata di reggiseni tipo 60 reggiseni sportivi e da lì è nata un po' una curiosità anche dal suo punto di vista e pensa addirittura che infatti questa è una cosa ancora più interessante lei aveva preso questa abitudine questo era il 2021 di tutti i prodotti che le venivano nel feed di Facebook interessanti me li mandava e grazie a lei ho trovato winning ok un prodotto vincente da tipo 160 mila euro in un mese ovviamente l'ordine e quindi pensa quanto è utopistica come cosa cioè lei mi ha aiutato indirettamente a trovare un prodotto vincente incredibile incredibile e diciamo questo periodo del drop in realtà eri ancora in quarantena o eri già rientrato no 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 era 2020 ti parlo comunque è stato un processo molto veloce ok quindi eravamo comunque 2020 abbiamo aperto la prima azienda perché comunque io ho iniziato a fare i primi numeri ad agosto 2020 che eravamo ancora in quarantena e abbiamo aperto subito azienda perché bisogna fare per chi non lo sa bisogna avere la partita IVA per fare i commerce e sì 2020 2021 eravamo tutti chiusi non andavo ancora a scuola e questo sicuramente mi ha aiutato perché avevo tanto tempo libero e la testa era impallata da mille stimoli e fortunatamente è andato qui come è stato poi il rientro perché comunque tante persone che hanno insomma vissuto il covid in periodo scolastico quando ovviamente si sono rivisti a x mesi barra anni di distanza già erano completamente cambiati e tu che hai fatto questo cambiamento così abissale no? in quel periodo cioè come è stato sia con i professori in rapporto sia con i compagni vederti completamente diverso con un budget diverso con un business sotto mano allora qui è una cosa interessante che io non l'ho mai detto a nessuno cioè io per un anno e mezzo nessuno tranne i miei genitori mia famiglia sapeva di questa cosa qua quindi io a scuola sono rientrato come mi avevano ritrovato cioè mi ricordavano fondamentalmente senza nulla di più poi io d'altra parte tenevo sempre segreta questa cosa anche perché poi Shopify c'è la notifica che sembra bellissima però io ho sempre in mente questa immagine di io che andavo a scuola in bicicletta e ogni mattina facevo tipo la challenge tragitto casa scuola in bici quanti soldi riuscivo a fare la mattina partito subito col mercato tedesco e sì bello però nessuno sapeva questa cosa comunque quindi per l'ora era uguale cioè e oggi invece che adesso che vedono anche sui social come si è cambiato ho dovuto fare una scelta importante e ovviamente non l'ho fatta per la fama perché io ho più di tanto della fama sicuramente io la vedo più come un'opportunità di business che di ok la gente mi loda eccetera eccetera mi chiede le foto ti fermano la mia strada sì sì beh ultimamente veramente esplosa la cosa e anzi a volte diciamo me ne pente un po' di questa cosa qua cioè del fatto di avere così tanta visibilità perché poi comporta anche dei rischi parliamoci chiaro e soprattutto perché sono piccolo adesso in realtà io tendo sempre a dividere le due cose quindi in realtà cerco sempre di evitare l'argomento non ne parlo mai con nessuno secondo me tutti lo sanno ognuno ha la sua idea però non mi interessa più di tanto cioè non affronto l'argomento quindi in realtà tengo sempre distaccate le due cose quindi loro non cioè li vedi gli sguardi li vedi gli sguardi la gente anche perché poi ci sono gli specchi ovunque io li vedo la gente dietro come mi guarda alle mie spalle però sì ecco pochi magari con pochi ne parlo ecco fondamentalmente i professori capiscono il tuo quello che fai cioè nel senso un giorno scherzando con Fabio diciamo immagina Tommy che rientra a scuola e fa che hai fatto il weekend Tommy ho preso una villa a Como sono andato a registrare allora sicuramente allora sicuramente lo sanno ok perché ormai lo sanno ci sono stati un paio di professori anche che me l'hanno detto e anzi loro lo vedono come una cosa nobile comunque questo è un aspetto che mi piace di quella che è stata la risposta a scuola cioè per dire loro mi hanno proprio proposto di fare delle lezioni anche di comunicazione perché poi quello che vedono loro più tanto del business che poi lì si entra tanto nel tecnico è più la parte esterna quindi la comunicazione è bravo a parlare sa muoversi davanti alla macchina fotografica eccetera eccetera però ecco questo e a scuola raccontaci due o tre aneddoti simpatici perché sono sicuro che qualcosa è successo sì allora più che a scuola vi dico c'è un aneddoto interessante io faccio uno sport agonistico vabbè i classici ritiri sportivi tra ragazzi è stato il periodo in cui avevo lanciato i miei primi e-commerce ed ero finito in camera con dei ragazzi più grandi soltanto qual è il problema che vi ripeto Shopify ha questa notifica molto che c'è e si fa fatica insomma che non le disattivi a non sentirla e loro mi avevano preso il mio telefono a mio sabuto mentre mi facevo una doccia eccetera e erano entrati nel mio telefono erano entrati su Shopify e ho iniziato a vedere cosa vendevo e al tempo ripeto vendevo regissini sportivi che banalmente ok dici facevi 70.000 euro in un mese è un vanto loro lo vedevano un po' come un prendermi in giro infatti io non so farto un po' per questa cosa qua perché poi si sparsa la voce ah Tommaso vende regissini sportivi questa roba qua i classici prese per il culo che comunque quando sei solo intelligente perché ci sei arrivato prima di noi ma allora secondo me anche se se avessi venduto felpe probabilmente si sarebbe creata una situazione simile ovviamente poi per alcuni è un oggetto di imbarazzo a me in realtà non ha mai toccato assolutamente come la vivi l'having in generale comunque hai sui social allora adesso io ce l'ho fatta l'abitudine perché comunque ho tanto hating nei miei confronti perché comunque per l'italiano medio è difficile da concepire che un ragazzino possa fare cifre così importanti quindi per me è veramente indifferente anzi addirittura ovviamente se ci sono dei insulti pesanti abbiamo preso l'abitudine di mandare delle letterine dall'avvocato perché comunque è giusto così che la gente capisca che sui social tutti hanno potere ma non è giusto che tutti scrivano quello che vogliono soprattutto se vai a toccare certi tasti in realtà vi dico sono più magari i miei genitori che leggendoli cioè è più per loro che un po' mi dispiace perché quelli che scrivono un commento non si medesimano in questa cosa qua che in effetti se ci pensiamo è un po' brutta come cosa soprattutto per quello che mi scrive certa gente no è davvero brutto cioè mi immagino da genitore deve essere veramente difficile sì più per loro mi dispiace per me ormai prima ci hai detto che al giorno d'oggi sei un cripto investitore però abbiamo parlato di e-commerce quando c'è stato lo switch tra una cosa e l'altra e perché? allora io ho capito che dovevo cambiare business model nel momento in cui ho tirato un po' le linee cioè nel senso che io ho vissuto un Q4 quindi l'ultimo periodo dell'anno con delle vendite assurde fatturati importantissimi però poi è calata l'attività e lì fuori diciamo dal videogioco dal boom mi sono un po' reso conto che adesso aspetta perché iniziano ad emergere tantissimi costi tasse fuori dal normale responsabilità cioè capivo che non era un business model che anche con i margini mi avrebbe garantito una serenità un futuro ok e fatalità ho incontrato in quel periodo un quello che è diventato poi il mio collaboratore e lui mi ha fatto appassionare a questo mondo delle cripto e da lì poi insomma è partito la mia passione per questo mondo magnifico e quello che oggi in che anno si è entrato nel mondo sono entrato nel 2000 fine 2020 inizio 2021 quindi piena burranna come sono andate le prime operazioni ma io dico sempre sono stato uno spettatore della burranna infatti adesso non voglio farmi mancare ci stiamo lavorando ormai da anni per questa seconda che tutti si aspettano e mi sono bruciato mi sono bruciato perché se voi date 100.000 euro in mano a un ragazzino di 15 anni di 14 anni che magari non si rispende per una borsa Gucci o chissà cosa bene o male il trading è un lavoro appena entri in un'operazione rischi che si ribrucia io ho fatto l'errore di partire così ho detto ma sì dai è tutto così bello tutto così veloce invece il trading mi ha un po' fermato mi ha detto no aspetta caro perché non è così come pensi quindi sì ho iniziato con tante difficoltà poi ci siamo evoluti mi sono appassionato al mercato del decrypto perché non era trading forex eccetera eccetera ma un mercato completamente diverso ho iniziato a investire come dicevamo prima e quindi sì pian piano poi su cosa stai investendo pesantemente al momento volete le chicche allora io adesso sto investendo principalmente nel settore dell'intelligenza artificiale in cripto perché secondo me è il settore la narrativa più interessante attualmente nel 2024 anche per la prossima bull run ok poi ci sono altre narrative interessanti c'è il settore del gaming c'è il settore anche degli asset reali quindi della tokenizzazione se non vorrei entrare troppo nel tecnico sono tutti settori molto interessanti perché è lì dove la blockchain è un po' il game changing no perché io l'ho studiata a fondo la blockchain per quanto ne potessi capire e nel momento in cui la studi capisci quello che era il valore aggiunto che può dare anche banalmente a un mercato tradizionale a un'azienda classica e lì allora è nata poi tutto il resto ecco quindi sei più esposto a investimenti lungo termine o nel trading adesso allora io diciamo che tutto ciò che genero per me ecco io faccio sempre questa metafora ok cioè per me il trading è un modo per continuare a generare cassa carburante che poi vado a iniettare nel mio mezzo vincente nella mia Ferrari che è l'investimento in grado di moltiplicare quel capitale se sono bravo ok quindi tutte le mie entrate dei cash flow business che poi chiamiamolo cash flow business il trading ciò che deriva dalla mia azienda di formazione eccetera lo vado a iniettare direttamente nell'investimento ed è lì dove secondo me si costruisce la vera ricchezza ovviamente ovviamente non sono esposto completamente su investimenti cripto perché poi per quanto uno ci possa credere c'è sempre la variabile del fallimento e sarebbe stupido come errore da imprenditore fare ciò e dal punto di vista del mercato in generale della prossima bull run anche con l'avvento insomma di questa super notizia di pochi giorni fa dell'etf di bitcoin cosa ti aspetti cioè dacci prima per fare un po' di hype un prezzo di bitcoin e poi dopo darci la tua visione completa allora io mi aspetto che ci possa essere effettivamente questa crescita ok perché partiamo dagli etf gli etf è stata una rivoluzione tra l'altro anche qui vi racconto un aneddoto nella mia scuola vecchia si era tenuta questa conferenza cripto cioè nel senso era partita come conferenza sulla finanza perché ogni scuola ha i giorni di autogestione quindi sono venuti dai consulenti finanziari a parlare però poi quando si parla di finanza si finisce sempre nelle cripto ok sempre così ed sarà sempre così e io sono un po' uscito come il cigno nero a fare una domanda del tipo ma secondo voi la vedete possibile un'approvazione degli etf in questo settore e loro vabbè mi hanno semi riso in faccia cioè non era un sorriso esplicito però mi hanno detto ma guarda è molto difficile la vediamo molto complicata è un settore comunque molto vergine eccetera eccetera ad oggi abbiamo visto che forse avevo ragione io ora il discorso è che ci sono tanti fattori che potrebbero influenzare la crescita c'è l'etf c'è l'halving che è proprio un fattore certo cioè l'etf era un dubbio se succede bene l'halving ci sarà che è un processo più tecnico e ci sono anche le elezioni degli USA si parla comunque tanti pensano che Trump salirà diciamo sul trono e quello sarà un bene perché comunque lui è molto cripto friendly c'è la diminuzione dei tassi di interesse ci sono tante cose in concomitanza con questo periodo storico che ci fanno pensare a una futura bull run e io sono il primo te l'aspetti prima dell'halving o dopo? ma allora diciamo che secondo me siamo già in una bull run nel senso che la bull run per definizione inizia nel momento in cui un bear market è terminato ok cioè il bull market chiamiamolo così ora che oggi si parta e si arrivi alle stelle no ok infatti la figata è che facendo trading mi aspetto anche certi ritracciamenti e posso d'altra parte con l'alta declinazione investire su fasce di prezzo più interessanti ok e comunque mi aspetto che sì non sia più un fattore 2024-2025 ok quindi fine anno inizio anno cioè alla fine l'halving eccetera sono tutti dei boost però io lo dico sempre anche alle persone che io seguo cioè ragazzi esserci entrati a 40 o 35 tra un anno quando arriviamo a quei prezzi l'importante è esserci entrati ricordiamoci questa cosa qua poi chiaramente io stando tutto il giorno davanti ai grafici cerco le opportunità migliori e cerco di immarginare però ecco per la persona comune è meglio entrare e aspettare che tanto stare dietro al grafico sono verdi ai tempo se non l'importante secondo me però è che si faccia informazione cioè bisogna crederci e capirne il valore perché dire io investo in bitcoin poi ti arricchisci con la fortuna e magari entri cioè nel momento in cui vedi un per due vedi un per due vendi ma non sai perché ha fatto quel per due magari fa ancora un per dieci cioè è lì il problema di investire bisogna sempre 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 studiare e capire dove stiamo mettendo i nostri soldi io dico sempre questa roba qua nel momento in cui i nostri soldi crescono e non sappiamo il perché è un problema senti ma invece per i ragazzi che vorrebbero fare un percorso come il tuo far capire anche quali sono state le tue difficoltà in generale anche per seguire persone immagino che vedono un ragazzo così giovane a cui devono affidarsi quali sono state le tue difficoltà in generale su queste cose allora io dico sempre che ho visto anche un video l'altro giorno di un imprenditore che rispondeva a un ragazzino che gli aveva chiesto come posso fare i milioni e lui gli aveva risposto fammi vedere il tuo calendario questo per dire che cosa che non gli interessava se ne aveva 16 anni se ne aveva 18 ne aveva 25 il discorso qual è non è tanto l'età ok parliamoci chiaro perché è un mondo che abbiamo visto da opportunità chiunque nel 1980 cioè era molto più difficile come cosa cioè a partire dal fatto che tutti gli accordi commerciali erano fisici di presenza quindi chiaramente nel momento in cui tu arrivi lì sbarbatello eccetera prendi tante porte in faccia però secondo me adesso la cosa che conta realmente per un ragazzo della mia età se hai l'idea chiara è partire e studiare poi tutto il resto cioè è lavoro non ci sono trucchi magici io non ho avuto un trucco che mi ha fatto svoltare semplicemente io mi sono messo lì e ho detto ok mi chiudo 3-4 anni della mia vita in casa tra virgolette lavoro ho l'idea chiare e butto tutta la mia energia il mio tempo su questo punto nel momento in cui diventa la tua priorità cioè quello e le versioni lo percepiscono sì certo poi chiaramente ci sono degli effetti negativi cioè nel momento in cui hai successo e vuoi intraprendere una strada di successo ci sono degli effetti negativi ok perché tanti parlano di isolamento io non mi sono isolato perché comunque io le amicizie le ho coltivate eccetera però è anche vero che devi eliminare tanti stimoli esterni quindi anche non scendere a patti con la tua coscienza e dire lo posso fare o non posso farlo sviluppare un business affiancandolo alla scuola è sicuramente molto complesso come dicevi no quali sono le best practice della gestione del tempo questo me lo chiedono spesso ma io sono abbastanza disorganizzato cioè fino a sei mesi fa la mia vita era torno da scuola e mangio casinato sulla scrivania poi mi è venuta la bella idea di prendermi un assistente che mi aiuta a organizzarmi con le mie task quindi mi fa il calendario eccetera quindi adesso sono molto organizzato in realtà semplicemente banalmente anche disinstallare TikTok so che è una cosa molto banale però oggettivamente tutto quel tempo lì è il tempo che puoi utilizzare per investire nel tuo business cioè alla fine devi capire analizzi la tua giornata capisci dove perdi tempo e energie ne vale la pena posso sostituirlo se no è la risposta ti aspetti una crescita esponenziale di quello che stai facendo nel senso che comunque sei super giovane e hai risultati interessantissimi a livello economico e anche proprio a livello tuo mentale cosa ti aspetti dal tuo masso del futuro ma allora io non mi sento arrivato per niente cioè io ho scoperto ecco come dicevo prima io sono partito con l'idea che la ricchezza erano i jet privati le macchine eccetera poi io sono stato ho fatto cose che un ragazzino magari con una persona di 50 anni non fai un'intera vita ok o non fai 50 anni e io jet privati eccetera le ho fatti banalmente cioè che ero senza barba 15 anni la prima volta che sono salito però poi mi sono reso conto che quella non era realmente ciò che mi faceva cioè tutte quelle cose lì finiscono ok e mi sono reso conto che in realtà quello che piace a me non è fare soldi quello che piace a me è lavorare sulla mia azienda farla crescere perché poi diventa un po' la tua priorità è antecedente anche alla tua persona spesso che è quello che vedi dire anche da tanti imprenditori quindi in realtà io sono non mi pongo nemmeno l'obiettivo di dire voglio fare X cioè schiacciare sull'acceleratore basta poi io amo quello che faccio e quindi cosa c'è di più bello ti vedi comunque sempre in questo mercato sì spero perlomeno di sì ci sono comunque no cioè sicuramente ho l'idea di evolvermi cioè banalmente anche un hedge fund sarebbe il mio sogno un giorno è complesso però pian piano ci si spera e nella vita personale ti vedi sempre in Italia o no io detto fuori tra i denti spero di scappare ma non perché l'Italia abbia qualche problema a parte l'atto fiscale che sicuramente non ti dà una mano però voglio aprire un po' gli occhi vivere nuove esperienze conoscere persone nuove uscire dalla mia zona di comfort nel tempo libero quali sono le tue passioni a parte allora io ho una bella passione cioè è uno sport io faccio sci agonistico mi alleno tre volte a settimana e quella è la mia grande passione perché io quando scio cioè per me lo sci lo dico sempre è lo sport più bello del mondo cioè a parte la sensazione di libertà che ti dà e anche il fatto che sei tu che crei velocità con un mezzo che sono le tue gambe ovviamente poi di sci e non magari un motore senza togliere nulla alle moto alle macchine è una figata e io amo alla foglia questo sport da quando hai iniziato a farlo ma piccolissimo cioè la prima volta che ho messo degli sci avevo due anni come funzionano gli allenamenti adesso ti faccio una domanda stupida ma sono curiosissima no è fondamentalmente boh parti con i tuoi allenatori anche dopo scuola vai su sci due tre ore torni a casa e poi però ecco secondo me mi ha dato anche una grande lezione lo sci in termini imprenditoriali perché ti aiuta oltre a svegliarti fuori detto proprio così la parola resilienza che è una cosa che secondo me è un po' dimenticata da questa generazione cioè il fatto comunque di fare uno sport che dipenda dalle condizioni meteorologiche perché non sai quante volte sono uscito con meno 20 e ti assicuro che è una bella cosa e poi soprattutto c'è uno sport complesso cioè ci sono veramente troppe è uno sport in cui tu dai tanto e rischi che non ci sia la stessa risposta e lì ti fai un po' le osse secondo me è uno sport molto molto utile per la crescita personale e gli sport poi in solitaria solitamente danno sempre una mano a livello mentale infatti un consiglio che darei ai ragazzi della mia età è stare meno sui libri non le dico solo io questa cosa qua però fare più sport possibile fondamentalmente avendo generato così tanti soldi a questa età com'è cambiato il rapporto anche con le donne in un'era in cui sembrano cercare solo quello sai che mi metti un po' in difficoltà perché è una bella domanda e io lo dico sempre cerco sempre di stare lontano da rapporti con ragazze in ambienti in cui girano soldi ma in realtà cioè più che con le donne in generale è cambiato un po' con le persone il rapporto perché poi cioè da parte mia c'è sempre la domanda ma lui cosa pensa di me mi valuta per i soldi cioè qual è è che è un po' il dilemma di tanta gente che ha generato tanta ricchezza magari anche partendo da zero quindi che non era abituato a vivere in certi ambienti sicuramente ci sono tante gold digger ok così le chiamano è vero purtroppo è vero cioè tantissime ragazze a tantissime ragazze interessa soltanto il denaro più che te come persona però nel momento in cui trovi una risorsa io non l'ho ancora trovata nel momento in cui io sono stato fidanzato durante questo percorso per dire però la sono scelta bene diciamo cioè non sono stato molto attento a questa cosa qua anche perché per dire se vogliamo dare proprio una chicca io non glielo cioè per otto mesi non gli avevo mai detto che facevo questi numeri qua poi comunque ho iniziato a espormi quindi ho dovuto dirglielo che ne pensi invece del parlare di e questo in realtà è un argomento che abbiamo affrontato anche noi il parlare dei numeri che fai con la persona con cui sai ma secondo me io sono dell'idea che se alla base c'è fiducia e sei una persona vera e che di conseguenza attrae persone simile a te stesso e ha passato diciamo quello che è un test di fiducia ha senso parlarsi e condividere tutto io sono questo dell'idea poi te ne accorgi cioè sicuramente come dicevo prima devi condividere con lei tutto ma il fatto che la ricchezza materiale non è il piedistallo della relazione ecco però penso che se tu sei arrivato a un certo livello stai anche accorgerti di ciò ecco sicuramente i tuoi genitori ti diranno trova la prima presto perché dopo sennò più arrivi diventi ricco è più difficile i tuoi genitori che rapporto hai nel senso che comunque sia non è stupida come cosa che un genitore magari anche tuo padre quando sei piccolo ti dice ok ti apro la partita io io comunque penso che abbia fatto una cosa di questo genere per iniziare ti supporta anche in una fase comunque così così giovane sì allora io ho un bel rapporto con i miei genitori perché lo dico sempre mi hanno supportato sia nei miei progetti sportivi che lavorativi chiaramente è stato molto complesso per loro concepire che io potessi fare ciò soprattutto avevano paura magari vi parlo anche della situazione di adesso all'inizio era molto complesso capire che io potessi fare ciò soprattutto perché io gli ho detto subito che le mie intenzioni era stata quella magari di aprire un e-commerce però io avevo dei miei soldini che erano 70 euro io ho iniziato a vendere siti eccetera sono arrivato a 3.000 come dicevo prima e già lì è stata comunque una prova cioè io dico sempre ragazzi se volete partire al di là che i vostri genitori vi dicano va bene o non va bene portate dei fatti io quello che ho fatto è stato portare dei fatti e dire ok adesso io ho questi soldi che ho generato che se perdo sono miei ok proviamo poi chiaramente quando sfocia nel legale nel senso che è arrivato a certi volumi devi aprire partita IVA loro mi hanno supportato addirittura vi dico di più quando ci sono stati tanti ordini con l'e-commerce mio padre si metteva lì a mettere i tracking con me nel sito che è stata una bella mano ho questi ricordi alle due di notte io e mio padre tutta la sera a mettere i tracking eccetera eccetera e quindi sì io ho un bel rapporto adesso ti dico è un ricordo pazzesco comunque no anche magari negli anni cavolo hai fatto qualcosa con i tuoi genitori è stato molto bello ti dico la verità perché loro hanno capito mi hanno supportato perché hanno capito io ho sempre parlato con loro e quindi loro hanno capito cosa stessi facendo quella è la bassa comunque per un buon rapporto loro vengono dal mondo imprenditoriale o allora loro sono dei dipendenti quindi per loro è un po' shock questa cosa qua e poi di famiglia sì sono state le piccole impresine però nulla di è il nonno magari così altro punto in più perché cavolo su un imprenditore comprende meglio ma se lo è certo e sì poi adesso vi dico i rapporti che abbiamo sono uguali a prima adesso magari hanno paura che questa cosa qua possa comportare dei rischi perché nel momento in cui magari anche ti esponi a livello comunicativo sai girare per strada così non è mai bello star da soli perché ce la sappiamo la gente che sta in giro e comunque loro hanno magari a volte paura che io mi circondi di persone sbagliate che mi possono portare in giri strani questa è la loro paura per il resto loro mi supportano uno dei motivi per cui poi vuoi andartene magari da questo è anche che non ti senti però al sicuro sì in effetti guarda ti dico a volte torno a casa la sera di dove sei io di Verona torno a casa la sera che magari sono da solo quando non sono con miei amici eccetera e devo dire che magari ho paura sai uno passa magari non si sa mai mi riconosce sono da solo così non sai chi è questo quindi c'è un po' tra virgolette di non paura però malfidenza nell'ambiente che mi circonda però sì in realtà del fatto di sicurezza me ne importa fino a un certo momento cioè a un certo punto anche perché mi sono entrati i ladri in casa mentre io ero dentro a casa per dire ma dai sì però è un episodio slegato dalla mia attività però è un trauma che per dire da bambino ho vissuto cioè io da bambino mi sono ritrovato questo ladro davanti a casa con mia mamma ed è un trauma per dire io ho passato mesi che non riuscivo ad andare a dormire senza chiamare i miei genitori da quanto ero traumatizzato questo per dire che cosa che sì nonostante io abbia certi traumi anche con la sicurezza eccetera adesso più di tanto voglio andare all'estero solo per le opportunità cioè poi è chiaro cioè benvenga che ci sia più sicurezza dove li vedi Dubai America Asia lo dicevo prima anche un altro ragazzo a me piacerebbe viaggiare e poi vedere dove mi trovo meglio ti diamo a noi qualche tip esatto oppure ti unisce il nostro gruppo esinerante esatto il primo viaggio che ti fa è in Thailandia Thailandia in Thailandia tre mesi so che voi siete amanti di Thailandia in Thailandia tre mesi guarda bene torni rinato dai proverò e vi dirò sì sì e invece qual è l'investimento più grande che hai fatto finora ma io penso formazione per lo più perché io sono uno che a cui non piace studiare a scuola io sempre in realtà mi veniva molto facile però mi dava fastidio dover mettermi lì a studiare un programma che magari non mi interessava delle cose che secondo me non avrebbero mai avuto un riscontro reale nella mia vita futura però nel momento in cui tu non studi soprattutto quando hai un business e non ti evolvi sei a terra rimani sempre nel tuo punto quindi io investo sempre tanto in formazione anche per le altre mie aziende perché poi per fare trading sì va bene ti evolvi però poi adesso lo sto facendo tanto con la mia esperienza cioè più che formazione continua e quindi spendendo soldi facendo errori testando cose nuove però per altri business che hanno più riscontro imprenditoriale con approcci di clienti eccetera mi formo sempre e spendo tanto 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 invece l'investimento dal punto di vista economico in asset che possono essere cripto o altre cose ti dico solo che prevedo un 500k da inserire nella prossima bullrun come cifra te lo dico senza problemi invece una cosa adesso parlando la scorsa bullrun nel momento di crollo come ti sei comportato quanti soldi hai perso se li hai perso non ero c'era uno spettatore nella scorsa bullrun più che altro eravamo specializzati nell'acquisto di le cosette shitcoin quindi tutti i progettini che valevano realmente poco che nascevano poi esplodevano lì ci siamo presi un po' di porta in faccia però non sono stato un protagonista è quello che ho un po' rimpianto però ci rifaremo sei pronto sono pronto effettivamente quello che ho ragionato anch'io in quel periodo di calo è stato adesso focus sul business accumuli capitale in caso rientri poi è sempre da considerare una cosa che spesso e volentieri continuare a investire sul business è più profittevole perché è vero che puoi prendere il mille per ma la probabilità è veramente 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 rara quando il business ormai è preso le metriche sa che più o meno quello che metti a un rientro su questo sono d'accordo con te nel senso che comunque investire sul business è la prima regola d'altra parte però io il ragionamento è questo se noi acquistiamo oggi bitcoin più o meno sui 40k va bene il massimo che può fare secondo le mie aspettative è un 4x un 400% ok che per carità però io dico sempre guardiamoci attorno cioè guardiamo tutte le altre cripto non cripto che nascono adesso che boh fumo aria fritta progetti che disegna magari un bambino di prima alimentare il logo eccetera no progetti con grandi capitalizzazioni anche magari nella top 10 nella top 20 con potenziali anche per 10 per 15 perché se noi andiamo a analizzare la scorsa bull run ci sono stati progetti come bitcoin ha fatto banalmente sì solito per 3 per 4 eccetera ethereum già ha spinto un po' di più però banalmente un mana cioè ci sono tanti progetti banalmente legati al metaverso che hanno fatto un per 20 addirittura e lì dici ok interessante come cosa quindi anche lì se tu hai un portafoglio come spesso io insegno di fare ben differenziato perché diversificato non è giusto come parola puoi stare safe e spingere bene cioè non si tratta di cogliere il per mille perché poi lì è fortuna è un po' un gioco d'azzardo si tratta di fare le cose studiate con delle alte performance e questo capitale che vuoi mettere in che modo pensi di distribuirlo? ma diciamo che qui entriamo fino a specifico comunque sicuramente nella parte più safe su bitcoin che sembra un po' un paradosso non dici parte più safe bitcoin però sì quindi diciamo la maggior parte del capitale è su re la regina bitcoin e tirum poi il resto lo vado un po' a buttare su crypto in capitalizzazione comunque ripeto non shitcoin ma con già dei progetti solidi erodati e su cui stanno investendo tante 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 aziende potenti e nessuno lo sa ok e quindi non sono io Tommaso che lo dico e poi sicuramente qualcosina lo butto sulle scommesse che dice ah se mi va bene fa un mille per però non lo considero neanche se mi va male ecco è più un grattevincio sì esatto però ecco non vorrei far passare che poi questo lavoro qua è un po' un gioco d'azzardo perché tanti lo vendono così purtroppo e invece c'è dietro tutto il lavoro chiaramente a partire da trattarlo come un business cioè io sono uno dei primi in Italia che parla di trattare come un business il trading il crypto in generale perché poi il trading è una cosa ma se tu inizi a sfruttare tutte le potenzialità del mondo crypto della blockchain con altre opportunità io dico che è l'unico mercato finanziario in cui puoi fare imprese non delle crypto questa è un po' la mia definizione ok Tommy per chi ci sta guardando magari comunque è un pubblico giovane dall'analitica vediamo che è un 18-24 predominante ok quali sono i consigli che daresti a una persona in qualsiasi ambito non per forza crypto trading o e-commerce per diciamo fare i primi step i primi passi allora studiare prima cosa è continuare a studiare e investire sulla vostra formazione che voi vogliate diventare medico avvocato o imprenditore perché senza lo studio senza analizzare anche quello che hanno fatto nel passato non si va avanti ok quindi questa è la prima cosa che vorrei dire dopodiché mettervi un po' in difficoltà ok cioè io sono sempre stato un ragazzo molto timido cioè io se guardate il medi quattro anni fa non si sarebbe mai messo davanti a una telecamera però mi sono messo in difficoltà mi sono messo in difficoltà nel momento in cui magari mi dovevo interfacciare dei clienti che ero piccolo e dovevo uscire un po' dalla mia zona di comfort ed è lì che sono cresciuto realmente perché nel momento in cui volete fare qualcosa di grande dovete voi diventare grandi dentro ecco questo è il tuo consiglio esatto grazie mille grazie mille grazie a voi è stato un piacere grazie è stato un piacere